Non si ferma il raid ladresco in corso nelle abitazioni della bassa friulana. Colpo da 12.000 euro messo a segno sabato 13 aprile all'interno di una villetta a Gonars. I ladri, vista l'assenza dei proprietari, sono entrati indisturbati all'interno forzando un serramento e razzeando quanto possibile, dandosi poi alla fuga indisturbati. A rientro la sgradita sorpresa da parte dei proprietari, che hanno trovato tutto messo a soquadro. Per loro non è rimasto altro che spoggere denunce ai carabinieri di Palmanova. Il bottino si aggira sui 12.000 euro asportati, monili in oro, oltre al danno recato all'abitazione. Sotto osservazione gli impianti di videosorveglianza presenti all'interno della stessa e nei paraggi. Immagini utili per risalire agli autori.